Felipe Anderson che cerca il cross, intercettato, pallone che si alta a campanile ma ancora sui piedi di Felipe Anderson. Dentro, attenzione, Pedro, Pedro, ti tiro! Dai! E dai! E dai! Bacic, Bacic, lascia il vantaggio, taglie! All'interno dell'area di rigore sul cross di Pedro, c'è il colpo di testa di Bacic che si avvita e batte il portiere dello covo di Mosca. Tutto molto bene, grande azione ancora, rivediamo Luiz Alberto per Pedro, Pedro ancora colpo di testa, con avvitamento per Bacic che trova il gol. Eccolo lo spiovente, direttamente in porta! E dai! E dai! Non ho capito! E andiamo? Trettantesimo minuto! Justin, Bieber, Patrick, 2-0! Dai!